In questo video parleremo di Carl Gustav Jung. Per Jung il percorso psicologico umano si colloca tra una dimensione di coercizione e una spinta verso la libertà, che è comunque la libertà vincolata alla propria inalienabile soggettività. La vera maturità si dimostra nel momento in cui si ha il coraggio di sostenere in prima persona le proprie idee. Per Jung la possibilità di entrare in contatto con determinati contenuti inconsci è condizionata dalla forza dell'io, ovvero più l'io è forte maggiore sarà la sua apertura verso l'inconscio. La psicologia jungiana aiuta l'individuo a dare un senso al mondo, mentre se non riusciamo ad attribuire significato agli eventi e alle esperienze con molta probabilità verremo eliminati dalle stesse difficoltà della vita. La dimensione naturale dell'essere umano è l'inconscietà e fin quando non solgono problemi l'essere inconsci è perfettamente funzionale alla sopravvivenza. Esistono persone che vivono senza mai interrogarsi su se stesse. Con loro non si può stabilire un rapporto profondo perché sono prive di qualsiasi sensibilità e sono incapaci di relazionarsi alla propria dimensione inconscia. Quando invece compiando un atto contro natura strappiamo determinati contenuti alla nostra inconscietà, cogliamo come Adamo ed Eva il frutto proibito dell'albero della conoscenza. Da quel momento siamo obbligati a chiederci sempre il senso di ciò che ci circonda e che ci succede. La vera disperazione sorge nel momento in cui non capiamo il senso di quanto ci succede e dunque viviamo in una dimensione paranoica in cui siamo convinti che i nostri problemi derivino dagli altri. Finiamo cioè per tenere sempre l'indice della mano destra puntato sul prossimo trasformandolo in una figura demoniaca ed è per questo infatti che è concepito il diavolo come appunto immagine che assume su di sé tutto il male del mondo. Freud dice dove era l'es sarà l'io, dove ora è l'es la sarà l'io. Con questa affermazione suggestiva Freud indicava la necessità di strappare la terra al mare ovvero al di fuori di questa metafora indicava la necessità di annettere al dominio dell'io cosciente i contenuti autonomi dell'inconscio per diventare più forti rispetto all'assurdità del mondo interno ed esterno. Perché il mondo effettivamente è assurdo, non ha alcuna finalità e procede in maniera autarchica senza alcun significato apparente. E allora siamo noi esseri umani che dobbiamo ricercare il senso del mondo dedicando a quest'opera tutta la nostra vita. Fin quando rimarremo inconsci saremo totalmente in balia degli altri, diventeremo aggressivi se qualcuno fiutando il nostro punto debole ci provocherà, senza renderci conto che è stato attivato il nostro complesso. Oppure non saremo in grado di elaborare le esperienze dolorose, soccombendo sotto l'impatto degli eventi. Freud nelle ultime fasi del suo pensiero portò alle estreme conseguenze la concezione conflittuale della psiche, ridefinendola in termini di contrapposizione tra pulsione di vita e pulsione di morte. D'altra parte il processo di individuazione, che è il perno centrale della teoria jungiana, va interpretato come una integrazione delle diverse parti psichiche in una totalità chiamata sé. Una totalità in cui il conflitto non è superato, ma viene assunto come un dato strutturale e creativo della psiche umana. Per Jung le fondamentali categorie esplicative della realtà psichica sono la polarizzazione, ovvero l'idea di una organizzazione per opposti, la compensazione e la relazione. E questi sono tutti elementi concettuali che rimandano alla natura conflittuale della personalità. Quando si studia il pensiero di un autore il primo obiettivo è individuare l'oggetto della sua ricerca, cioè comprendere quale è il problema a cui sta cercando di dare una risposta. La concezione freudiana rimanda all'esperienza personale dell'individuo e alle sue vicende del passato. La concezione jungiana invece rimanda alla teoria dell'inconscio collettivo che trascende l'esistenza storica del singolo individuo. Jung era interessato soprattutto alle determinanti collettive inconsce del comportamento. Uno degli argomenti cui Jung dedica più spazio è l'analisi del ruolo. Questo aspetto della personalità è chiamato da Jung persona, un termine latino che disegnava originariamente la maschera che veniva indossata dagli attori. Jung definisce la persona come un segmento dell'inconscio collettivo e tiene a precisare che la nostra dimensione umana è spesso molto diversa dal ruolo che siamo costretti a rivestire e che pure è indispensabile per svolgere alcune funzioni sociali. La società esige che ciascuno di noi faccia la sua parte. Assumere un ruolo è una necessità inderogabile, almeno nella società occidentale. Quando interagiamo con un estraneo in genere, agiamo la persona, dando luogo a tutta una serie di regole e quindi di comportamenti attinenti al ruolo che è adatto in quel contesto, il che semplifica i rapporti con il nostro interlocutore. Tuttavia il rischio sempre presente è che l'io si identifichi con la persona, portando il soggetto ad appiattirsi completamente nel ruolo e in definitiva nel pensiero collettivo. In questo modo si perde l'identità personale e si comprime la propria ricchezza umana nei limiti di un'etichetta. Non c'è sventura peggiore che perdere la plasticità e la ricchezza della dimensione umana, quella d'utilità psicologica che costituisce la vera grandezza dell'uomo, perché è la prerogativa di ogni processo creativo. Pertanto una rigida identificazione con la persona comporta l'unilateralizzazione della personalità, che diventa tutta centrata su valori collettivi, provocando un grave depauperamento non solo nella struttura psicologica, ma anche per così dire nella fruibilità della vita. Quando accade questo, l'inconscio cosa fa? Compensa l'unilateralità dell'atteggiamento cosciente, producendo una sorta di identità contrapposta, che può talvolta risultare anche ridicola. L'identificazione totale con il ruolo è quindi causa di nevrosi. La persona dunque riflette una scelta inconscia e dove è assunta rigidamente siamo autorizzati a supporre che esprima un'esigenza difensiva. La persona è come un'armatura protettiva perché consente di affrontare la realtà temuta, che è poi quella dei rapporti interpersonali, dove si annidano le paure fondamentali. Il concetto di relazione è fondamentale nella psicologia del profondo. Schematicamente si può considerare la personalità come un derivato della dinamica pulsionale, conformemente alla posizione freudiana, oppure come risultante della continua spinta a relazionarsi con un oggetto, cioè con una persona. Infatti, secondo il modello delle relazioni oggettuali, il bambino sin dalla nascita tende ad instaurare relazioni. Un processo che resterà in atto per tutta la vita. Su questa concezione si fonda la corrente più recente appunto della psicanalisi. Ora, le persone neurotiche soffrono per non essere riuscite a instaurare relazioni soddisfacenti. È molto comune incontrare persone che hanno difficoltà nell'ambito relazionale. In un certo senso è come se questi soggetti girassero muniti di un'arma, di un'armatura, di una corazza caratteriale, e quindi una struttura difensiva che fonda le sue basi nel substrato caratteriologico dell'individuo. Proseguendo nella disamina del pensiero junghiano, vorrei contrapporre al concetto di persona quello di ombra. L'ombra. L'ombra è il controaltare inconscio all'immagine esteriore del soggetto, cioè la persona. Possiamo in primo luogo osservare che l'ombra è in un rapporto compensatorio con la persona. E questa affermazione ci introduce direttamente al significato di questo concetto. L'ombra, al contrario della luminosa persona, appartiene all'oscurità psichica e come tale non può essere mai completamente risolta. Infatti, per designare il confronto con questa immagine, i psicologi analisti utilizzano l'espressione venire a patti con l'ombra, allo stesso modo di come si dice venire a patti col diavolo. Con questo concetto Jung vuole indicare quegli aspetti della personalità che sono deplorati dal superio e quindi dalla coscienza collettiva e che sono soggettivamente penosi, per cui generano il senso di colpa, un senso di vergogna, generano un senso di impotenza, ovvero vissuti persecutori e di autosvalutazione. Lo stato naturale dell'ombra è quello di essere rimossa dalla coscienza e quindi difensivamente proiettata all'esterno, su soggetti o su situazioni che forniscono un aggancio. L'ombra racchiude il negativo della personalità, così come ogni immagine fotografica, ha una sua controfigura negativa. Fintanto che rimane inconscia, l'ombra è potente, è carica di affettività distruttiva ed è anche autonoma, quindi ha il potere di disorientare l'io e di destrutturare la persona. Quando è inconscia, l'ombra è soggettivamente sperimentata come un destino persecutorio, perché l'ombra diventa alienata dalla personalità e quindi verrà proiettata all'esterno sulle altre persone. Ed è spesso tragico constatare quanto un uomo rovini la propria vita e quella degli altri, rimanendo totalmente incapace di capire fino a che punto l'intera tragedia derivi proprio da lui e parta da lui. Questo non è certamente la sua parte conscia che agisce in questo modo, ma è piuttosto un fattore inconscio. L'ombra però è anche un archetipo e come tale ha un aspetto atemporale ed ha anche una componente storicizzata. Il concetto di male infatti cambia con la storia, con la cultura, con il gruppo etnico. Ad esempio ai tempi di Platone avere degli schiavi non costituiva un fattore riprovevole, mentre oggi la coscienza collettiva repudia ogni idea di sopraffazione dell'uomo sull'uomo. L'essere umano ha sempre pensato il mondo in termini di contraposizione tra bene e male, perché questa è un'idea che ha origini archetipiche. E i miti di tutte le culture lo testimoniano. In ogni religione troviamo infatti rappresentato un dio del bene e un dio del male come immagini opposte ma complementari. Sarebbe difficile raffigurarsi un dio salvifico senza la sua parte demoniaca. Pertanto il diavolo è una tipica personificazione dell'ombra. Per il principio junghiano della compensazione, tanto più ci innalziamo ad un livello di luce e di grandezza, tanto più siamo inconsciamente invischiati con l'ombra. L'ombra è quindi proporzionale allo splendore della persona. Del resto è funzionale alla sopravvivenza presentare al mondo il nostro lato migliore. Fin quando non ci troviamo in condizioni di stress, la nostra persona può rimanere integra. Quando invece interviene un fattore traumatico, come ad esempio un incendio in un luogo affollato, l'altro a cui fino ad un istante prima cedevamo il passo per educazione, non diventa che un ostacolo alla nostra salvezza, per cui non esitiamo a travolgerlo e a calpestarlo. Naturalmente questo è un caso estremo, ma purtroppo è sufficiente uno stimolo assai più tenue per innescare dei comportamenti ombra. Basta infatti sollecitare un individuo nel suo complesso a totalità affettiva per vederlo trascendere. Fin quando non veniamo messi alla prova facciamo facilmente parte della schiera degli angeli, ma di fronte alle difficoltà è molto più impegnativo mantenere una condotta ideale. Non a caso dopo un terremoto o un altro tipo di calamità per prima cosa fanno organizzate squadre speciali che scoraggiano gli sciacallici. E questo dimostra purtroppo come di fronte alla sciagura e alla sofferenza accadono, accanto alla reazione più evoluta di solidarietà umana, si mettono in atto anche comportamenti predatori. Non c'è quindi molto da illudersi sulla fondamentale bontà della natura umana. La problematica del bene e del male quindi è inalienabile all'uomo. Jung ha sempre riconosciuto a Freud il merito di aver restituito all'uomo la coscienza della sua falsa coscienza e di aver messo a punto un sistema di indagine dell'animo umano volto ad elaborare gli aspetti inconsci e distruttivi che si frappongono alla realizzazione del desiderio. Jung dirà è un fatto innegabile che la malvagità altrui diventi quanto prima la nostra malvagità perché rinfocola la malvagità presente nel nostro animo. E questa affermazione dimostra che il problema dell'ombra non può essere disgiunto dalla dialettica degli opposti. In Jung la coscienza del male dentro di noi rappresenta l'inizio di un processo di ampliamento della personalità dal momento che l'ombra una volta elaborata è comunque portatrice del valore individuale che la coscienza personale ha rifiutato ed estromesso. Come sostiene Newman l'ombra innanzitutto ripara una dissociazione della personalità compensando le tendenze della coscienza a disgiungere gli opposti e quindi ad arroccarsi su posizioni difensive unilaterali. In sostanza l'ombra avvicina l'io all'inconscio e lo fa il più delle volte attraverso un sintomo o comunque una sofferenza. Una sofferenza che in questa funzione può essere riletta in positivo come un primo disperato tentativo di cambiamento. L'ombra ha sempre un aspetto deprecabile che è legato alla coazione, all'istinto di morte e poi ha un altro aspetto di valore legato alla trasformazione psichica di cui è un prerequisito fondamentale perché apre il soggetto ad una maggiore consapevolezza. Dal momento che l'ombra è legata alla rimozione corrisponde all'inconscio personale freudiano ma dal momento che è anche un archetipo rappresenta la problematica assoluta del bene e del male. Il confronto personale con l'ombra avviene in genere attraverso le immagini oniriche in cui non raramente la problematica rappresentata dall'archetipo dell'ombra è l'antagonista che rappresenta le caratteristiche di segno contrario alla personalità dell'io. La presenza di questi contenuti nei processi onirici è già di per sé un buon segno prognostico perché dimostra che il sognatore è disposto a rapportarsi a questo mondo sommerso. Infatti il diventare conscio di qualcosa presuppone già una scelta da parte dell'io e si tratta di una integrazione basilare perché non si può procedere nell'evoluzione psichica finché non si ha preso coscienza delle forze distruttive interne che si oppongono alla realizzazione della totalità psichica e quindi delle nostre potenzialità inconsce. Se non elaboriamo coscientemente la dimensione demoniaca non potremo attingere alla nostra vera forza vitale. Dunque la creatività appartiene anche e soprattutto all'archetipo dell'ombra che esprime i contenuti rimossi dalla coscienza collettiva e quindi tutto quanto permette una differenziazione dai canoni culturali. Il decorso del processo di individuazione comincia di regola con la presa di coscienza dell'ombra. L'opera di Jung, tipi psicologici, è sostenuta dall'idea fondamentale che la radice del male consiste nell'unilateralità psichica mentre la salvezza è sempre nella totalità. Nella funzione superiore della coscienza possiamo trovare soltanto i più alti valori collettivi ma se la persona si identifica completamente con questi valori questo equivale ad un fallimento sul piano dell'individualità anche se pienamente adattata e integrata al sociale. Nella funzione inferiore cioè nell'ombra si nasconde invece il più alto valore individuale dotato di una grande forza propulsiva e creativa. Le persone che vantano un atteggiamento severo come i professori che bocciano gli studenti per ogni piccola mancanza appellandosi ad un astratto rigore morale denunciano proprio una rimozione dell'ombra e di conseguenza mancano di quella elasticità psicologica che permette di comprendere le situazioni in maniera più personale. Colui che non patisce la dimensione dell'ombra è incapace di un vero ascolto può solo percepire superficialmente le parole e il loro significato apparente ma il linguaggio è sempre allusivo non è mai esplicativo soprattutto se riguarda gli affetti anzi chi ha toccato la profondità dei sentimenti quelli soprattutto dolorosi o gioiosi sa bene che alle volte ogni parola è inadeguata ad esprimere il senso dell'esperienza e allora l'esperienza della propria ombra è fondamentale per conoscere se stessi e il mondo altrimenti ci si limita ad una percezione superficiale. Bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia con la telefonata per richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza poi mi potete trovare anche su youtube dove ho aperto un canale mi trovate anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo